Il vero successo di questa iniziativa e dei risultati che sono stati ottenuti dalla ricerca e dagli studi condotti per la valorizzazione vitigno-toctori trovano la migliore espressività in questa sinergia creata tra pubblico e privato. La presenza delle imprese attraverso Doc Sicilia rappresenta il vero valore aggiunto di questa scelta. Ci consente di orientare scelte di programmazione, ci consente di orientare la ricerca. Una ricerca quindi che è una ricerca applicata che nasce dalle stesse aziende. Un vero valore per la valorizzazione del nostro comparto della vitivinicoltura. Al centro di questa filiera, all'inizio di questa filiera c'è sicuramente il nucleo di premoltiplicazione della regione siciliana che è il vivaio Federico Paolsen, attraverso il quale si ottengono i materiali iniziali che vengono poi distribuiti ai vivaisti per aumentarne e migliorarne ovviamente la disponibilità per le aziende. Quindi i vivaisti sono assolutamente organici a questo nostro progetto, senza i quali ovviamente non riusciremo a raggiungere le imprese con i numeri che necessitano di produzione di cloni.